Abbiamo detto, abbiamo contestato l'iniziativa dei sindaci, lo abbiamo fatto proprio perché in Italia non c'è una legge che riconosce il matrimonio tra coppie dello stesso sesso. Detto questo, io sono personalmente e politicamente contraria al DL Cilinna nella misura in cui equipara matrimoni tra coppie omosessuali al matrimonio tradizionale che noi conosciamo e che è garantita la nostra Costituzione tra un uomo e una donna, ma soprattutto contraria alle adozioni. E la reversibilità delle pensioni, Salta Martini? Anche perché io credo che i diritti civili che occorre riconoscere e eventualmente anche ampliando quello che già prevede il Codice Civile a persone che vogliono vivere la loro affettività anche con un compagno dello stesso sesso, non possano andare a incidere nella destrutturazione sistematica che anche questa Europa sta facendo sull'Istituto della Famiglia. Allora si abbia il coraggio di voler cambiare la Costituzione italiana. Io ritengo che la famiglia è la cellula centrale su cui ruota e si fonda la società, in particolare la nostra. Secondo me la famiglia si sta, diciamo, in questo momento abbandonando, per cui abbiamo un governo che si preoccupa e occupa tantissimo tempo ad occuparsi delle unioni civili e ci mette un secondo per cancellare la parola famiglia da qualsiasi provvedimento. Penso al bonus per gli asili nido, al quoziente familiare che... Allora, sentiamo, sentiamo... Tutte cose che vogliono distruggere la famiglia. Io non ci sto.